Ok, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Quindi, in maniera generale, poi vedremo ovviamente cosa cambia con Flask e l'ultima ora porteremo il nostro esempio di applicazione web a utilizzare il database che creeremo al momento per supportare il nostro sito di blog. Quindi, questo è il piano delle tre ore. Partiamo con database e Python. Quindi, qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è sicuramente quello di rendere alcune informazioni persistenti. Quindi, per esempio, quando parliamo della nostra applicazione web, mantenerle tali anche quando il server riparte. Attualmente, invece, perdiamo tutte le informazioni che abbiamo, quindi aggiungiamo un nuovo post e questo lo perdiamo. Potenzialmente, anche, rendere il nostro software capace di gestire grandi quantità di data, di informazioni, di dati, che adesso stiamo memorizzando in memoria, in una variabile, sfruttando SQL, sfruttando quindi database relazionali, che molti, se non tutti, di voi hanno visto in altri corsi precedenti, più da aspetti, diciamo, di query, query anche molto complicate, magari, che non sono tipicamente il tipo di query che ci servono nel mondo web, o quantomeno non nelle cose che affronteremo in questo corso. Quindi, query relativamente semplici, nel nostro caso, select, insert, update, queste cose qua. Allora, qual è l'architettura generale a cui ci rifacciamo? L'architettura generale è che abbiamo un'applicazione Python, in questo momento non ci interessa se Flask o non Flask, e vogliamo, attraverso un DBMS, accedere ai dati su un database, su una base di dati. Quindi, un qualcosa del genere è la nostra architettura di alto livello. E potremmo dire, per esempio, che due tra i DBMS, in realtà uno in due versioni, un DBMS usato, molto usato, che anche nel mondo web, è MySQL. Quindi, MySQL Server è un database open source, mantenuto da Oracle, che vende anche la versione non open source, ma questa è la parte open source, che ha tutto un insieme di feature avanzate, per gestire qualunque cosa vi possa servire, su un database, e viene eseguito come un processo separato sul vostro computer. Cioè, voi dovete installare il DBMS, MySQL come server, e avere la vostra applicazione Python, che parla con questo DBMS, attraverso questa, diciamo, connessione qui, che adesso è ancora molto astratta. Però è un'altra entità, è un altro software, che noi dobbiamo installare, configurare, e attivare, in modo da poterlo utilizzare. MySQL è la versione open source, fornita da Oracle, esiste poi anche un altro, un fork, in realtà, di quella stessa versione open source, un fork fatto anni prima, rispetto anni fa, che si chiama MariaDB, che è praticamente compatibile al 100% con MySQL, parte da MySQL prima che venisse comprata da Oracle, e in alcuni casi è anche più veloce della versione ufficiale di MySQL, ed è alimentata dalla community, ma è alla fine, filosoficamente, o teoricamente, lo stesso database, con lo stesso set di funzionalità, e funziona all'incirca allo stesso modo. Si tratta di installarlo come un server e di utilizzarlo una volta che viene lanciato. Quello che noi invece andremo a usare un pochino più da vicino è questo SQLite, che vedete che a differenza dell'immagine di prima, non c'è più scritto DBMS Server, c'è scritto Library, perché questo SQLite in realtà non è un server, è solo una libreria, e come vedete anche il disegnino cambia, non è più il classico disegno di un database, ma è un file. Questo perché SQLite è un database su file. Quindi, non c'è niente da installare, non c'è un altro software da installare, perché tutto il database sta su un file. C'è una libreria che ci permette di accedere alle informazioni di questo file. Ha come vantaggio, che è ovviamente autocontenuto, in quanto l'intero database è su questo file, e se volete passare il database a un'altra persona, basta passare il file, e non ci sono configurazioni da fare, non c'è niente da impostare, c'è solo il file da passare, ovviamente, anche questo open source, ovviamente è molto meno potente rispetto a MySQL o MariaDB. È molto meno adatto a ospitare grandi quantità di dati rispetto a MariaDB o MySQL, che possono addirittura anche essere messi su un server diverso, su una macchina diversa. Questo invece è un file, è un documento. Noi useremo questo, ma in questa lezione vi racconterò anche il lato MySQL MariaDB, perché ovviamente, essendo tutto su un file, è molto più facile passare a voi dei database e ricevere da voi, quando sarà ora dell'esame, il database che voi creerete, esattamente come lo creerete. Invece di ricevere delle istruzioni per installare, esportare, poi reimportare il database creato in MySQL. Per i fini del corso, quindi per siti, per applicazioni web piccole o di media dimensione, questo è più che sufficiente. se dovessimo creare un'applicazione web molto, molto più grande, come quantità di dati da gestire, come quantità di interrogazioni da fare, dovremmo spostarci su MySQL MariaDB, ma a livello di funzionamento, come vedremo fa poco, in Python non cambia tantissimo e comunque entrambi accettano query SQL, quindi il linguaggio con cui andiamo a interrogare la base dati, a scrivere o aggiornare i dati è lo stesso. Quello che fa Python è che aggiunge un livello in mezzo tra eventuali server o eventuali librerie che è questa database API definition, un PAP. Voi sapete cos'è un PAP? Ricordate quantomeno se non lo sapete cos'è un PAP? Mai nominare? Mai sentito nominare? PAP sta per Python Enhancement Proposal e sono una serie di documenti che definiscono come che standardizzano alcune funzionalità in Python. Il PAP 249 è quello che standardizza come Python si interfaccia ai database. Quindi fornisce in questo caso un livello unico per interfacciarsi ai vari tipi di database, quantomeno SQL che sono a disposizione. Non importa quale, non importa se MySQL, non importa se MariaDB, non importa se SQLite, non importa se Postgre, non importa se. Fornisce un livello unico e una modalità unica di interfacciarsi ai database. Questo è il motivo per cui useremo, noi useremo SQLite ma io vi racconterò anche in parte MySQL e MariaDB perché a parte una riga di codice tutto il resto è praticamente identico. al netto ovviamente delle funzionalità che uno può fornire e che l'altro non fornisce. Ma ripeto, per le cose base o quantomeno per le cose base in generale e per quelle che vedremo noi sono equivalenti. Quindi Python definisce questo che è un livello che ci permette appunto di avere un insieme di istruzioni e un insieme di processi per interfacciarsi con potenzialmente qualunque database. E quindi se il nostro programma utilizza questo livello di API definition possiamo oggi iniziare con SQLite e fra un mese togliere SQLite mettere MySQL e MariaDB e cambiare una istruzione nel nostro programma e tutto il resto continua a funzionare. Però perché questo rispetta questo standard. e quell'istruzione è l'istruzione che ci dice come ci colleghiamo allo specifico database. Questo è un file quindi si tratta di aprire il file questo è un server quindi si tratta di fare una connessione al server e quindi ovviamente è diverso. Ma questa è l'unica istruzione che cambia tutto il resto è indipendente utilizzando questo PIP dal database utilizzato al di sotto. Quindi questo ci dà un vantaggio in astrazione da quel punto di vista. E ripeto noi usiamo SQLite ma se voi a un certo punto vorreste mettere un altro database basta davvero cambiare una singola istruzione. E ovviamente questo si applica a un'applicazione Python qualunque e di conseguenza si applica anche a un'applicazione Flask che alla fine è un'applicazione Python. Quello che ci permette poi in ogni caso di sfruttare queste API ma anche di parlare effettivamente con i tipi di database sono alcuni moduli che dovremmo importare nel nostro programma perché ovviamente se noi dobbiamo aprire una connessione a un database su file dovremmo avere il modulo per aprire quella connessione mentre se noi dobbiamo aprire una connessione a un indirizzo HTTP qualcosa con un utente password avremo bisogno di un modulo diverso da quello da SQLite che sfrutti le caratteristiche specifiche dell'altro server dell'altro DBMS tutto questo sempre supportato da questo livello di definizione dell'API del database ok? quindi questa è l'architettura generale noi adesso andremo a vedere il percorso da l'applicazione Python l'applicazione Flask che dir si voglia attraverso SQLite modulo per arrivare alla libreria di SQLite ma ripeto da questo punto in su non cambia niente se non una singola riga allora beh quali sono le altre opzioni oltre a MySQL MariaDB è giusto per completezza e SQLite c'è Postgre che è un altro database relazionale che però rientra in questa stessa architettura se vogliamo qui ci sarà un Postgre module e qui sotto ci sarà Postgre come database ma tutto il resto rimane invariato se questi moduli implementano questa questo PEP ci sono moduli la maggior parte dei moduli lo implementano quello di SQLite e quello di MySQL lo fanno altri non necessariamente però se lo implementano a quel punto è tutto uguale per qualunque database mettiamo sotto e altra opzione per memorizzare i dati giusto per completezza ci sono tutti database non relazionali quindi NoSQL che ovviamente non considereremo qui in quanto non utilizzati molto per applicazioni web diciamo tradizionali però sono database che invece di avere query SQL hanno query in altri linguaggi e invece di memorizzare dati in tabelle memorizzano dati in file JSON quindi memorizzano tanti file che vengono collegati tante strutture dati che vengono collegate tra di loro con query più complesse e si chiamano non relazionali o NoSQL perché non usano SQL e non hanno gli stessi concetti di relazione non hanno l'entità relazione che invece hanno i DBMS SQL tradizionali due parole appunto su questo PEP vi ho già detto che è la specifica dell'API sul database specifica appunto in una maniera standard uguale per tutti per cui i moduli che vogliono utilizzarla possano accedere ai database ovviamente essendo una specifica se cliccate sul link è testo dice che cosa deve fare come deve farlo ma non lo fa fare sul serio serve poi una libreria o un modulo che lo implementi e quelle integrate in Python lo implementano quelle esterne possono scegliere o meno di implementarlo come dicevo prima quello di MySQL per esempio lo implementa quali sono i concetti principali di questo standard questo standard ha questi quattro concetti principali la prima è che l'accesso a un database viene fornito attraverso un oggetto che si chiama connection che ha un metodo che si chiama connect quindi la prima cosa quando volete interfacciarvi con un database è scrivere qualcosa appunto connect e collegarvi al database per fare qualunque altra operazione sul database dopo aver creato una connessione bisogna creare un cursore quindi la connessione è l'apertura diciamo della comunicazione verso il database il cursore è quello che vi permette di fare una interrogazione al database quindi ci possono essere più cursori per ogni connessione in base alle richieste che vogliamo fare al database e il cursore si ottiene dalla connessione e il cursore poi ha un metodo che si chiama execute che permette di eseguire la query eventualmente con dei parametri e poi dopo aver eseguito la query dobbiamo prendere i risultati della query e utilizzarli nel nostro codice in base a quello che abbiamo bisogno o gestire l'errore o gestire il risultato vuoto ok questi sono gli esempi i passi base di quello che vi ho appena raccontato abbiamo per esempio una query cosa fa questa query ripassiamo SQL cosa fa questa query prendi di original modified la tabella translation e i di original modified sono sono degli attributi sono delle colonne ok quindi prendi il contenuto di tre colonne da una tabella che si chiama translation qualunque cosa abbia dentro questa tabella quindi definiamo la query come stringa creiamo la connessione secondo passo in questo caso questa questa è la riga che cambia in base al database utilizzato questo è vedete mysql.connector.connect questo è il connect di database della famiglia mysql quindi MariaDB o mysql possono usare questo che hanno una serie di proprietà il nome utente la password l'host il database specifico all'interno del DBMS eccetera proprietà che non avremo per esempio su SQLite perché su SQLite non avremo un nome utente o una password è un file lo apriamo e lo leggiamo quindi questa è la riga che cambia dopodiché dalla connessione creiamo un cursore e sul cursore eseguiamo la query a questo punto dato che questo è un select che produce più di un risultato potenzialmente più di un risultato perché gli stiamo chiedendo tutto quello che c'è in id original e modified di quella tabella non sappiamo se sono due entry o 200 o 2000 però potenzialmente più di una usiamo dal cursore il fetch all che dire prendiamo tutto dal risultato questo tutto dal risultato lo mettiamo in una variabile che al punto 6 ritorniamo e prima di ritornare chiudiamo sia il cursore in questo esempio sia la connessione perché non ci serve più in questo semplice esempio né il cursore perché abbiamo finito di farla query né la connessione perché non abbiamo altri query perché ritorniamo dopo aver chiuso il cursore e la connessione perché non facciamo return al punto 4 secondo voi perché altrimenti termineremo la funzione e non si chiuderebbe mai nel cursore e nella connessione e quindi il cursore e la connessione rimarrebbero aperti e questo come vi dicevo è l'unico passaggio che dipende dal tipo di database utilizzato quindi per di nuovo per MySQL MariaDB è quello per SQLite è più corto ora come definiamo una query una query la definiamo come testo come nell'esempio quindi se è una select è facile se c'è un parametro come per esempio in una insert in cui dovremo passare dei valori che prendiamo dal codice python che abbiamo perché non sappiamo immaginate il nostro blog il nostro post è blog dobbiamo inserire il titolo ma il titolo cambierà in base a quello che sarà scritto nel form quindi non possiamo metterlo come stringa qui dobbiamo passarlo come parametro il parametro è un'altra di quelle cose che cambia in base alla libreria database utilizzate per cui in mysql maria db è %s ogni %s rappresenta un parametro c'è solo %s non esiste %d non esiste ogni tanto %s mentre in sqlite è punto di domanda e il resto della sintassi è uguale insert questo è una insert inserisci nella tabella translation nella colonna originale nella colonna modificato i valori che adesso vengono passati e questa è la stessa query nel lato formato che cos'è questo in python cosa sarebbe questo in python vediamola dopo aspettate dov'è che cos'è questo in python c'è anche scritto credo una una tupla ok quindi tutto questo lavora con le tuple poi ci torniamo ora una cosa importante dei placeholder queste sono stringhe giusto? queste sono variabili giusto? alla fine sono variabili perché non concateniamo le stringhe? perché non facciamo insert into translation values chiuse virgolette più variabile 1 virgola variabile 2 il risultato sarebbe lo stesso mettiamo le variabili all'interno della stringa perché abbiamo bisogno dei placeholder? per la sicurezza sì per un grande problema di sicurezza che è quello che si chiama la SQL injection quindi concatenando stringhe voi non avete controllo su cosa siano quelle variabili che c'è nella stringa con i parametri invece ci pensa il database a effettuare dei controlli quindi mai utilizzare la concatenazione di stringhe bisogna sempre utilizzare il placeholder per questo problema di sicurezza che è un problema noto è vecchissimo quindi usare sempre il placeholder e i valori attuali di questi placeholder non saranno poi inseriti nella stringa ma saranno passati nel e poi torniamo indietro nel execute quindi l'inserimento delle variabili nella stringa verrà fatto in fase di esecuzione quando saremo praticamente sul database non verrà fatto invece in python quindi qui si farà execute farà una serie di controlli per verificare di sanificazioni per evitare problemi con quei parametri se invece una stringa lui esegue tutto quello che c'è nella stringa e come vi dicevo i placeholder per MySQL MariaDB sono questo %s mentre per SQLite è sempre il punto di domanda quindi noi andremo sempre ad utilizzare il punto di domanda nel nostro caso e questo è il primo step creazione della stringa della query il secondo step abbiamo detto è la connessione al database che è l'unico ripeto l'unica cosa che cambia da un database all'altro e qui ci sono i due esempi uno con MySQL e uno con SQLite come vedete quello con SQLite è più corto ha meno dettagli perché l'unica cosa che gli serve è qual è il file dove è il file da aprire col database mentre MySQL essendo un server ha bisogno di tutta una serie di altre proprietà il nome utente la password dove sta girando il server qual è il nome del database la porta in cui sta girando il server in questo caso non è indicata perché è quella standard eccetera SQLite ha meno pretese però questa ripeto è l'unica cosa che cambia tra un database e l'altro a quel punto passo 3 eseguiamo la query otteniamo il cursore eseguiamo la query se ci sono dei placeholder vengono passati come secondo parametro della query dell'execute come tupla questo vuol dire questo vuol dire che ci sono due parametri sono aperta parentesi primo parametro virgola secondo parametro se ci sono un parametro è aperta parentesi parametro virgola chiusa parentesi perché quindi con questa virgola in fondo per farlo riconoscere come tupla perché altrimenti non è una tupla è solo una variabile senza la virgola quindi se ci sono più parametri si scrivono separati da virgola in parentesi quadri e se ce n'è uno bisogna ricordarsi nella parentesi tonda scusate non quadra nella parentesi tonda di aggiungere la virgola al termine del primo parametro e ci penserà l'execute a creare ed eseguire la query corrispondente a quel punto abbiamo eseguito la query dobbiamo prendere i risultati se la query prende i risultati se la query è una select perché se la query è una insert non abbiamo nessun risultato perché inseriamo una cosa nel database ci sono un certo numero di metodi sul cursore ma quelli più utilizzati più importanti per la select sono il fetch all che è quello che c'era nell'esempio di prima e il fetch one dove il fetch all prende tutti i risultati non importa quanti siano il fetch one prende il prossimo risultato quindi se voi immaginate che ci sia un risultato solo si può usare il fetch one se voi volete prendere un risultato alla volta potete usare il fetch one tante volte quanto voi volete prendere il singolo risultato non capita praticamente mai di usarlo più di una volta raramente diciamo quindi quando abbiamo un select asterisco from tipicamente useremo il fetch all quando abbiamo un select asterisco from where id uguale 1 e l'id è quello univoco all'interno della tabella allora useremo un fetch one perché ci aspettiamo che ci sia al più un risultato questo per la select quindi prendiamo i risultati da analizzarli se invece abbiamo un'operazione di modifica al database quindi non di lettura non useremo una fetch perché non abbiamo risultati ma dovremmo fare un commit cioè in un certo senso salvare i risultati della query sul database in maniera persistente quindi con.commit salva tutte le modifiche fatte in quel momento al database ed è sulla connessione non è sul cursore quindi potrei avere più cursori che fanno insert delete update e poi alla fine fare un commit di tutto insieme ovviamente questo ha senso quando si fanno modifiche al database quando si legge non ha senso salvare perché abbiamo solo letto non abbiamo modificato questo deve essere chiamato prima della chiusura della connessione perché se facciamo il commit dopo aver chiuso la connessione c'è la connessione già chiusa quindi il commit non può andare a buon termine e senza commit non si salvano i dati quindi qualunque inserimento modifica o cancellazione semplicemente viene persa senza il commit si chiude la connessione e è come aver fatto modifiche senza aver salvato quindi in maniera temporanea a quel punto dopo che abbiamo salvato o analizzato i dati possiamo chiudere il cursore se non ci serve più e poi chiudere anche la connessione e prima di fare il return ovviamente se no la connessione non si chiude il suggerimento è quello di scrivere la connessione della chiusura subito quando scrivete l'apertura della connessione e poi in mezzo scrivere le righe di codice che vi servono per fare le altre operazioni in modo che evitiate di dimenticarvi di chiudere la connessione poi quello che capita in pratica è che in base al modulo che si sta utilizzando in base alla libreria che si sta utilizzando ci sono librerie che quando si accorgono avere una connessione aperta pendente da troppo tempo la chiudono automaticamente anche se voi vi dimenticate il close però come buona norma è sempre meglio chiuderla in modo da essere sicuri che venga chiusa quando volete voi e non in un momento a caso a quel punto avete i risultati della vostra query se c'è una select o avete fatto delle modifiche al database quindi magari volete fare un'altra query per prendere le modifiche e questi risultati li potete utilizzare nel vostro codice python per fare quello che vi serviva se avete bisogno di fare più query riutilizzate all'interno della stessa database all'interno della stessa operazione si può riutilizzare la stessa connessione creando più cursori quindi io posso creare un cursore per la select poi chiudo il cursore poi creo un cursore per la insert poi chiudo il cursore ma mantengo la connessione aperta questi due metodi fetch one e fetch all restituiscono tuple nativamente quindi se facciamo una fetch all di un select asterisco dall'elenco di post ci restituirà delle tuple un array di tuple nel caso della fetch all contenente un singolo post ma sono tuple non è un dizionario quindi se poi noi come per esempio nella nostra applicazione abbiamo bisogno di un dizionario perché abbiamo bisogno di prendere le chiavi specifiche per andare a riempire certe informazioni dobbiamo fare dei passaggi in più dalla tupla ottenere le informazioni che ci servono e lo vedremo nell'esempio dopo alcuni modi per farlo allora come mettiamo in pratica questo questo con SQLite è molto facile perché non c'è niente da installare il modulo di SQLite è incluso dentro Python da Python 2.5 in poi quindi non c'è come con Flask o Flask Session un modulo in più da installare è già incluso in Python di default quindi basta importarlo con import SQLite3 e creare una connessione con SQLite3.connect il nome e il percorso del database che noi andremo ad aprire e creare e ricordandoci che il placeholder è un punto di domanda e tutti gli altri passaggi sono gli stessi c'è anche giusto per competenza una libreria SQLite alternativa rispetto a quella che è fornita con Python che è più potente nelle cose che può fare è più completa rispetto a quello che SQLite può fare rispetto alla versione Python che è base che ripeto per noi va benissimo è sufficiente ma SQLite fa un po' di più rispetto a quello che la versione Python incorporata ci permette e che è questa qui che si chiama Another Python SQLite Wrapper con grande fantasia e è più potente più completa ma non segue la PEP 249 quindi vuol dire che non è non segue il processo di prima e quindi non è intercambiabile con altri database quindi se voi scrivete oggi un'applicazione che utilizza la libreria nativa SQLite cambiando una riga potete portare l'intera applicazione a utilizzare MySQL che è la connessione se usate questa dovete riscrivere buona parte della parte sul database del codice che si riferisce al database per portarlo o alla PEP 249 o ad altre librerie però giusto per citare esistono queste ed esistono anche librerie che appunto non seguono i PEP ecco poi adesso non voglio farlo ma non lo racconto adesso giusto per dirvi e ho lasciato inserito in fondo a queste slide anche alcune istruzioni su come fare la stessa cosa che noi faremo con SQLite con MySQL e MariaDB quindi se dove di nuovo quella che cambia è la parte del connettore quindi se qualcuno perché non ha niente di miglio da fare vuole a un certo punto o nel futuro passare o creare un'applicazione che invece di usare SQLite usi MySQL o MariaDB può farlo ovviamente c'è qualcosa da installare la libreria il modulo e c'è anche il database il database server da installare SQLite o MariaDB sul computer far partire gestire il ciclo di vita eccetera però di nuovo ai fini del corso noi useremo SQLite e vi chiederemo di utilizzare SQLite obbligatoriamente anche per l'esame in modo che è più facile passare il database che creerete indietro da voi a noi anche noi se vogliamo fornirvi dei database ad esempio è più facile perché è un file come fosse un pdf ok domande fin qui ok allora andiamo a vedere un esempio che ho già messo su git che è un vedete devo aumentare lo zoom eh sì meno male ok questo non è flask questo è python ok quindi togliamo per un momento la complessità di flask o l'aggiunta di flask questo è già su github avete il link sul sito del corso e questo è un esempio che appunto definisce due cursori su un'unica connessione fa alcune operazioni su questo database che si chiama task.db allora andiamo prima a vedere come è fatto il database non so quanto si veda ma allora il database ma se non vedete fidatevi il database è composto da una tabella che si chiama to do e questa tabella ha una un campo un attributo che si chiama id che è un intero che è la chiave primaria ha un campo che si chiama description che è la descrizione del il database si chiama tasks e la tabella si chiama to do perché dentro avrà cosa ci mettiamo dentro delle ricette da cucina delle cose da fare e quindi avrà un id che identifica univocamente la cosa da fare una descrizione che ci dice che cosa dobbiamo fare e poi c'è anche un altro campo che si chiama urgente che dice se è urgente oppure no ok id è un intero la descrizione è un testo e urgente sarebbe bello fosse un booleano è urgente sì no ma non ci sono i booleani in SQLite e quindi un intero o meglio nel database in SQLite non esiste il tipo boolean esiste solo il tipo intero text eccetera real e quant'altro esistono 4-5 tipi di dato python se voi scrivete true dove si aspetta un intero ve lo converte nel numero corretto quindi in 1 o in 0 e viceversa con false ovviamente e in questo database in cui non è non è non è possibile aumentare lo zoom ci sono due task uno è imparare SQLite e l'altro è usare SQLite in python quindi due task sono già dentro inserite a mano se possono inserire da questo software quindi questo è il nostro database una tabella tre colonne una che si auto incrementa perché è la chiave principale e gli altri due che dobbiamo riempire a noi cosa fa il nostro software e sapete questa ricca che cos'è sì sì tutti quindi non tutti chi è che ha detto sì può spiegarlo quella che non è una funzione perché è ovviamente un if questo è però quello che dici tu se io cancello questa riga e indento tutto se avvio l'applicazione comunque mi esegue tutto esatto adesso spieghiamogli a lui e a chi come lui non allora questo è l'entry point di un programma python cioè un programma python voi potete scriverlo tranquillamente senza bisogno di scrivere niente direttamente riga su riga come abbiamo fatto in flask in realtà qual è il problema che se noi importiamo questo file di binteraction senza questa riga tutto è importabile possiamo da un'altra parte andare a prendere questa variabile SQL e usarla cambiarla possiamo fare quello che vogliamo la importiamo e se avessimo qui delle funzioni anche le prenderemmo le potremmo utilizzare questa riga ci dice invece che tutto quello che viene dopo viene eseguito quando si lancia il programma e non è visibile a eventuali file che importano questo documento quindi se noi importiamo questo documento da un altro file questo documento per l'altro file sarà vuoto perché non ha al di fuori del if main del if name nessuna variabile nessuna funzione eccetera questa è l'unica differenza questo è l'equovalente della function main in altri linguaggi di programmazione non è uguale però è concettualmente l'equivalente ok quindi è il modo per far partire un programma per cui se noi abbiamo qui anche 50 funzioni e qui ne chiamiamo una sola che non è collegata alle altre 49 eseguiamo solo quella lì perché il main è quello che questo if è quello che detta come la funzione aveva eseguita come il programma aveva eseguito ok quindi in questo caso stiamo dicendo quando viene eseguito eseguo tutto questo quando vengo importato non si vede niente non viene eseguito niente quindi cosa fa qua crea una un'istruzione SQL che è cosa fa questa istruzione complicatissima seleziona tutto da to do quindi cosa ci aspettiamo che torni la tabella cioè tutte e tre l'id la descrizione e se è urgente o meno ok poi creiamo una connessione dove qui ci basta inserire il nome del file perché siamo nella stessa cartella creiamo un cursore ovviamente abbiamo dovuto importare SQLite 3 ma ripeto senza installare niente creiamo un cursore eseguiamo una query facciamo un fetch all perché abbiamo preso tutto e stampiamo i risultati a quel punto chiudiamo il cursore e se volessimo per esempio fare un'altra query un insert dovremmo usare i placeholder quindi faremo insert into to do description urgent values i due valori che dobbiamo inserire che saranno le nostre due prossime variabili e creiamo un nuovo cursore eseguiamo la query quindi questo con le due variabili che sono i placeholder nell'ordine in cui vanno inserite quindi prima description e poi urgent come tupla questo esegue la query ma per salvarla nel database dobbiamo fare commit a quel punto chiudiamo sia il cursore che la la connessione e se volessimo potremmo avere una terza un terzo cursore che fa di nuovo questa get questa select asterisco per vedere il risultato ok quindi c'è qualcosa di che vedete di strano in questo file tutto chiaro ok allora eseguiamolo e vedete che ci dà questo è il risultato della fetch all che ci dà i risultati come un array di tuple in cui il primo elemento è l'id il secondo elemento è la descrizione il terzo elemento è urgente e anche per l'altra per l'altra riga per l'altra entry ovviamente restituendolo come tupla perdiamo il nome della colonna se volessimo averlo cioè non sappiamo che questa colonna si chiama description è il secondo elemento della tupla e questo è il terzo elemento della tupla non conserviamo questa informazione con noi e se noi lo rieseguissimo o aprissimo il database ma fatemelo rieseguire vedete che abbiamo aggiunto con l'insert di prima un'altra query che faremo a un certo punto alle 7 ma non adesso un altro task sempre come tupla che viene sempre restituito come tupla e questa è la fetch all ovviamente adesso avendo eseguito due volte avremo due volte questo task una volta con il d3 e una volta con il d4 e no perché la chiave primaria è l'id non è la descrizione del task e l'id è auto incrementale quindi non è e noi non lo passiamo essendo una chiave primaria auto incrementato vedi noi passiamo description e urgent no no quando abbiamo l'id che si auto incrementa questa chiave primaria facciamo fare al database il suo lavoro che è quello di incrementarla e di impostarla così evitiamo di fare casino anche perché se noi ne cancelliamo uno dovremmo andare a sapere qual è l'ultimo prima di inserire quello nuovo invece così lasciamo fare al database il lavoro che sa fare e inseriamo il contenuto se abbiamo una chiave primaria testuale scusate numerica che si auto incrementa ovviamente se la chiave primaria è testuale ci saranno altri controlli o altri errori che possono emergere quindi quello che dici tu non va in conflitto se description fosse stata chiave primaria sì sarebbe andato in conflitto perché inseriremo due volte la stessa descrizione però in un'applicazione di task una to do list puoi avere la stessa descrizione in momenti diversi adesso qui non ci sono quelli completati o non completati però fosse tutto in una tabella marcato come completato o non completato potreste anche averne due versioni una completata o una non completata dipende come viene ovviamente implementato ok quindi questo è il processo che come vedete è abbastanza semplice e lineare creiamo la query apriamo la connessione o apriamo la connessione poi creiamo la query creiamo il cursore eseguiamo la query se è una get se è una select asterisco o comunque se è un select multiplo fetch all se è un select in cui ci aspettiamo un risultato è un fetch one dopodiché elaboriamo i risultati chiudiamo il cursore e se invece è un insert un update una delete non ci serve un fetch ma a un certo punto ci serve un commit e a quel punto possiamo chiudere il cursore e chiudere la connessione come potremmo fare se ne volessimo avere invece di una tupla un dizionario in cui andare a dire results di aperta quadra description print result di aperta quadra description e quindi stampare solo result di uno aperta quadra description quindi stampare solo imparare SQLite c'è un modo manuale e un modo automatico che vedremo dopo quello manuale abbiamo una tupla vogliamo un dizionario? non possiamo farlo o possiamo farlo come? contenuti dal tupla una alla volta di coppia dentro di dizionario cos'è che devo sapere per fare questa operazione? sì devo sapere più che le chiavi e l'ordine in cui queste sono presenti nella tupla per cui devo sapere che quella query lì mi darà una tupla di tre elementi e il primo elemento è l'id il secondo elemento è la description e il terzo elemento è l'urgente è l'urgenza devo sapere queste informazioni per cui se io avessi una query su un'altra tabella che mi dà altri risultati o un sottinsieme di quelli dovrei adattare il mio traduttore tra tupla e dizionario in modo da coprire quegli altri casi quindi in questo caso ne abbiamo uno solo potremmo anche abbiamo solo una query e una sola tabella che prende tutto e quindi potremmo anche fare quindi la prima posizione nella tupla va a finire dentro la chiave id e la seconda dentro description o comunque vogliamo chiamarla e la terza dentro urgent e potremmo farlo ciclando su questo array di tuple e questa è la parte manuale ovviamente nell'esercizio vedremo anche che c'è un modo offerto da SQLite per farlo in maniera automatica che ha il vantaggio di farlo in maniera indipendente dalla specifica tabella che stiamo analizzando per cui ci restituisce direttamente i risultati in una specie di dizionario che possiamo utilizzare come dizionario invece deve fare il mapping a mano ok però se non facciamo nessun mapping non usiamo nessun metodo automatico questa è una tupla e quindi poi dobbiamo utilizzare una tupla per fare quello che ci serve ok allora fatemi chiudere questa cartella e aprire l'esercizio che c'è dentro che è esattamente quello che abbiamo fatto l'altra volta quindi fatemi creare il virtual environment perché se no e attivarlo e installare flask e flask session come tutte le volte eh sì magari install ok ora questo è esattamente quello che abbiamo fatto l'altra volta quindi se noi lo eseguiamo e il nostro vlog che abbiamo appunto creato l'altra volta è esattamente funzionante come l'altra volta è un copy and colla di quello che abbiamo fatto lunedì scorso quindi il nuovo post ci apre il nuovo il form se scriviamo qualcosa ci crea un un nuovo blog qui eccetera ora quello che noi vogliamo fare vogliamo iniziare a fare quanto meno è quello di prendere questo elenco di post e buttarlo via e rimpiazzarlo con un database e di conseguenza questo non sarà più fatto così e di conseguenza l'insert non sarà più fatto così perché non avremo più un post variabile globale a cui aggiungere le cose o un id da inventarci perché lì dice lo darà il database noi inseriremo nel database e questo rimarrà uguale quindi prima di tutto cosa ci serve? cosa ci serve prima di tutto? prima di importare SQLite? ci manca il database dobbiamo fare il database prima perché non c'è quindi dobbiamo prima fare il database se no poi possiamo importare SQLite eccetera ma quindi per fare il database possiamo usare questo tool che è quello che abbiamo usato prima per visualizzare il il tutto e possiamo creare un nuovo database creando un nuovo database ci chiede dove crearlo noi possiamo metterlo dentro la cartella direttamente qui nella cartella potremmo fare una cartella database all'interno del nostro progetto per esempio facciamo una cartella db in cui andremo a mettere il nostro database e il database è un file quindi chiamiamolo per esempio blog i file SQLite hanno quattro possibili estensioni di default prende la prima che è db SQLite SQLite3 o db3 ma sono equivalenti di default lui da come estensione db quindi se non mettiamo niente lui crea un come nell'esempio un file che si chiama qualcosa .db a questo punto ci chiede di creare una tabella allora facciamo un po' di progettazione di database a memoria senza stare a disegnare un diagramma entità relazione che tabelle ci servono quante ce ne servono quante tabelle ci serviranno almeno ok una sugli user e poi e una per post quindi due ok quella degli user in questo momento non è che ci fa molto perché non abbiamo utenti abbiamo solo un si è autorizzato a scrivere però è giusto iniziare a crearla perché tanto a un certo punto ci servirà quindi chiamiamola users e quali colonne possiamo mettere quali attributi possiamo mettere dentro users id id e non utente id numerico sì ok quindi id è tipo intero vedete qui ci sono i cinque tipi che SQLite supporta intero testo numero reale valore numerico qualunque blob che è un oggetto noi in questo caso scegliamo intero e diciamo che ci sono poi quattro colonne qui che dicono nn non nullo quindi non deve essere non può mai essere nullo questo valore pk che sta per primary key ai che sta per auto increment e u che sta per unique allora al nostro caso ci basta quando è una chiave primaria ci basta selezionare chiave primaria e eventualmente auto increment essendo una chiave primaria di default si porta con sé il fatto che sia unica e non nulla perché la chiave primaria non può essere nulla ma potremmo anche selezionare gli altri se volessimo è solo ridondante non è un errore poi ci sono altre proprietà tipo la chiave esterna eccetera ok e questo è uno e poi abbiamo detto mettiamo il nome per ora che è un testo e non è nullo l'utente avrà un nome e basta e premiamo ok allora lui ci crea qui non so se vedete ma qui sotto tables ci crea la tabella users e poi c'è un'altra tabella che si chiama SQLite sequence che è una tabella che crea automaticamente SQLite per mantenersi organizzate le informazioni al suo interno che noi non dobbiamo toccare cancellare fare niente quindi la lasciamo lì e ha le sue informazioni che gli servono la tabella users al suo interno in questo momento non avrà niente sarà ovviamente vuota e noi possiamo sempre attraverso questa interfaccia tramite browse data possiamo andare a premere questo bottone che aggiungi inserisce un nuovo record nella tabella che ci fornisce già l'id di un utente 1 perché è auto incrementato quindi automaticamente appena creiamo il record ci fornisce l'utente e poi possiamo mettere il nome dell'utente scrivendolo qui o scrivendolo qui è equivalente e qui ci dà comunque il modo in cui stiamo scrivendo testo in questo caso va bene e quindi chiamiamolo Luigi e così crea la entry nel database e possiamo poi salvare il database database per con ctrl s con command s per memorizzare le informazioni che è qui questo write changes ok l'altra tabella abbiamo detto postos colonne o attributi id id è quasi sempre la risposta giusta che di nuovo è una chiave primaria che si auto incrementa e deve essere univo che non nulla eccetera poi chiamiamolo come l'avevamo chiamato in inglese o in italiano e allora chiamiamolo title che deve essere un testo giusto può essere nullo il titolo no perché è obbligatorio non è la chiave primaria non si auto incrementa essendo un testo e non è detto che sia univoco potrei avere due posti con lo stesso titolo strano ma potrei poi data 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 può essere o scusa è sempre in inglese chiamiamolo date giusto data dato che non c'è un tipo data può essere intero testo real ma usiamo testo e lui usa la codifica ISO per identificare le date quindi anno meno mese meno giorno ed eventualmente le ore i minuti eccetera ok e questo deve essere non nullo giusto è un campo obbligatorio e non si auto incrementa nella chiave primaria e non deve essere univoca possa avere più di un posto nello stesso giorno content giusto tag 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 che è un testo che può essere nullo perché potremmo anche non avere content non avere tag giusto non era non era obbligatorio e content giusto che deve essere sicuramente un testo e di nuovo non deve essere nullo perché non possiamo avere un blog senza contenuto e utente che adesso abbiamo creato usiamolo non c'è nel nostro sito ma ovviamente ogni posto sarà collegato a un utente come creiamo utente? quindi user id in realtà non utente l'id dell'utente che sarà intero non può essere nullo e se voi scrollate un po' di qua c'è un foreign key e con un po' di pazienza se si seleziona vi permette di dire che noi abbiamo una chiave esterna su utenti e sull'attributo id dell'utente quindi abbiamo creato una chiave e qui sotto c'è l'istruzione SQL che dice che user id è intero non nullo e che è una chiave primaria che si riferisce che fa il reference a users tabella attributo id questo vuol dire che da adesso in poi non possiamo aggiungere un post senza che ci sia un utente creato nella tabella utenti e questo cosa vuol dire? questo vuole anche dire che noi abbiamo stiamo dicendo che ogni post avrà sicuramente un utente che è quello che l'ha creato non due non tre un utente non zero ok? ogni post sarà associato univocamente a un utente e un utente potrà avere quanti post? infiniti n ok? allora proviamo salva e vediamo se l'ha salvato perché ogni tanto questo non lo fa id title date tag content user id chiave primaria id auto increment foreign key user cd ok salva bene a questo punto possiamo andare a aggiungere qualche post i due post che avevamo nel nel server quindi come prima facciamo crea questa volta dato che ci sono tanti campi ci dà un'altra finestra per creare non ci fa modificare direttamente nella riga e allora l'id lo lasciamo vuoto perché tanto si auto incrementa quindi il titolo andiamo a prenderlo da qua è css vabbè lo posso scrivere il titolo è css il contenuto è quello che avevamo di là il tag è css lo user id è uno perché non abbiamo altri user id e la data era il 10 ottobre quindi 2022 meno 10 meno 10 tanto questo è testo quindi viene interpretato come testo ok premendo salva se non ci sono errori di validazione di constraint per esempio se mancasse l'utente ci darebbe errore in questo caso ci fa salvare tutto e vediamo che qui ci sono tutte le informazioni che ci servono ok creiamo anche l'altro che si chiamava html quindi titolo html tag html contenuto quello che avevamo utente sempre uno perché non abbiamo altri e data il 4 ottobre 2022 10 04 e salviamo ok questo è il database che ci serve per ora per fare tutte le funzionalità che abbiamo sul nella nostra applicazione più qualcuna che l'utente che in questo momento ancora non abbiamo ma che a un certo punto avremo quindi quando lo avremo andremo a modificare la tabella users per aggiungere le eventuali altre informazioni sull'utente la password per esempio o il nome utente per fare login ok quindi questo è il nostro database a questo punto abbiamo le informazioni questo lo possiamo chiudere perché al momento non ci serve e possiamo sicuramente andare a cancellare questa variabile adesso questo array che ci darà una serie di errori perché ovviamente adesso le cose hanno smesso di di funzionare e dopo la pausa inizieremo a scrivere il code che ci serve per prendere i post e salvare i post sul database facciamo un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo un quarto d'ora di pausa un quarto d'ora di pausa